Il battesimo conferito alterando le parole del rito deve essere celebrato di nuovo perché non è valido, ammonisce oggi con l'approvazione di Francesco la congregazione vaticana per la dottrina della fede. La motivazione la illustra una dettagliata nota dottrinale rivolta in specie a chi versa l'acqua in testa al battezzando dicendo noi ti battezziamo anziché io ti battezzo come prescrive il rituale romano. C'è una certa tendenza a essere creativi nella liturgia. E invece, rammenta la nota, già il concilio Vaticano II vietò di aggiungere, togliere o mutare alcunché in materia liturgica perché non solo è un abuso, un trasgredire una norma ma anche un non riconoscer l'azione di Cristo nella persona del celebrante. Diceva Sant'Agostino battezza Pietro e Gesù che battezza, battezza Paolo e Gesù che battezza, addirittura battezza Giuda e Gesù che battezza. Io posso fare anche una preghiera personale e lì prevale anche il mio cuore, i miei sentimenti. Quando faccio una preghiera liturgica e a servizio di ciò che Gesù fa, quindi io mi metto a servizio di Gesù stesso e Gesù che opera e che allora l'opera ha una sua efficacia. Di qui il logico no, in conclusione a quel noi ti battezziamo, che forse ipotizza la nota, vorrebbe sottolineare la partecipazione di familiari, padrini e madrine e della comunità, invalidando però il sacramento. E allora? Non necessariamente si deve ritornare in parrocchia con tutta quanta la partecipazione magari degli amici dell'Assemblea, però il sacramento in quattro totale nella sua essenzialità va celebrato, va ripetuto.